Con questo video la Virtus Franca Villa annuncia il ritorno di Pasquale Maiorino nella città degli imperiali, un colpo tanto atteso, voluto e cercato, in città non si parla d'altro i tifosi aspettano di vedere il fantasista Tarantino all'opera in campo, magari già domenica nel derby con il Bari, ieri primo allenamento, è chiaro che Trocini dovrà fare i conti anche con una condizione non proprio ottimale del calciatore, reduce da 5 mesi di inattività per le note, vicende legate al suo rapporto con il Livorno, chissà però che nei minuti finali non possa toccare a lui, numero 10 sulle spalle, firma sul contratto che lo legherà fino al 2023 alla squadra che lo ha fatto diventare grande 13 stagioni fa e che, anche grazie alle sue immense qualità in fase di rifinitura, riuscì a vincere il campionato di eccellenza. Una trattativa lunga ed estenuante, piena di intoppi, ma alla fine è andata in porto. Franca Villa ora sogna in grande con Maiorino, pronto a dare vivacità, freschezza e imprevedibilità nel reparto offensivo insieme a Vasquez e Ciccone, in attesa di Ecuban Puntoriere.